Due giovani, che bello trovare due ragazzi, io non so quanti anni avete, non me lo chiedo, però vi chiedo i vostri nomi. Fabio, Fedossi, Gianluca Giberti. Allora ragazzi di cosa vi occupate? Lavoriamo per una ditta sementiera che opera su tutto il livello nazionale italiano, diciamo. Io faccio la zona di Rovigo, lavoro per la Cossad, ditta sementiera francese e lui il mio collega che fa Ferrara. Allora voglio capire come siete arrivati a fare questo lavoro, avete un background agricolo o invece avete scelto voi di vostra spontanea volontà? Sicuramente abbiamo un buon background agricolo in quanto siamo entrambi figli comunque di famiglie che hanno sempre avuto legami con l'agricoltura, ma io in modo particolare sono anche diplomato e laureato presso la facoltà di agraria di Bologna, l'Università di Bologna e lui invece è perito agrario. Vi chiedo che tipo di rapporto avete con l'agricoltura attuale, cioè con le aziende agricole, magari anche con quegli agricoltori che hanno qualche anno in più di voi, per cui vi trovate poi ad avere a che fare? Come siete recepiti? Questo vorrei capire. Diciamo che per quanto riguarda l'ambiente ferrarese abbiamo comunque la fortuna di avere non dei semplici agricoltori, bensì degli imprenditori agricoli e al di là del nome è molto importante perché proprio l'imprenditoria, la propensione all'innovazione, al provare le cose nuove, al vedere qualcosa di nuovo che è sicuramente il più delle volte si spera essere migliorativo di quello che si è sempre fatto, di quella che è la tradizione e quindi diciamo tutto ciò supportato anche da una discreta, una buona superficie agricola aziendale e quindi è sicuramente più possibile fare delle prove, si riesce meglio a fare delle prove, confrontare il nuovo con il vecchio. Il nuovo con il vecchio è un bel tema, nel caso vostro, ribadisco, sono due giovani, con quale tipo di agricoltore vi trovate meglio? Con quello un po' più anziano o con i giovani? Magari hanno i vostri titoli di studio, insomma, vi trovate meglio con quale? Sicuramente ci troviamo meglio con quello, con l'imprenditore, con il giovane imprenditore, quello che parlo del mio caro che ha qualche anno in più di me perché giustamente, oltre all'esperienza e anche il fatto appunto che è diplomato o agrotecnico o perito agrario, ti trovi bene. Dopo appunto col fatto che veniamo da famiglie che sono imprenditrici agricole, ci troviamo bene anche con quelli un po' più anziani, diciamo. Volevo chiedervi, avete mai nostalgia del fatto che lavorate in un momento storico molto avanzato dal punto di vista scientifico, fitofarmaci, prodotti meravigliosi che rendono molto più più facile, tra virgolette, un lavoro che è molto complicato, però pensate mai, sarebbe stato bello comunque lavorare in agricoltura 70 anni fa, in un'epoca completamente diversa? Assolutamente no, perché assolutamente, perché ormai è ora di sfatare il mito in cui il tradizionale, il vecchio, è tutto bello, è tutto bello perché la nonna faceva. No, si moriva allora e si morirà anche adesso, però almeno oggi mangiamo qualche cosa, visto che siamo in agricoltura e quindi produciamo cibo, produciamo qualcosa di più sano, di più salubre sicuramente rispetto a 10, 20, 30, 50 anni fa e teniamo presente che siamo ancora lungo il cammino, sicuramente possiamo migliorare ancora, quindi nostalgia per il passato assolutamente no, ma forse nostalgia per il futuro. Produrre di più con meno, questo è bellissimo, quello che siamo in grado di proporre adesso con l'agricoltura, il rispetto per la terra, cioè quella che rimane e rimarrà invariata anche quando saremo 9 miliardi nel 2050, per cui un grande rispetto per la prima amica dell'umanità. Si spera che non venga tolto del terreno agricolo destinato magari al sviluppo abitativo, ecco, perché appunto se saremo in di più, che saremo in di più sicuramente, ci sarà questo problema, speriamo di no. La risposta secca all'agricoltore è il lavoro più grande sulla terra? Sicuramente sì, in più è anche il lavoro più bello in quanto produce non beni, ma cibo, alimentazione per noi uomini. Lo dite a me, lo dite a me. Ed è il settore primario, secondo me è il lavoro più bello, esatto. Grazie ragazzi, buon lavoro. Viva l'agricoltura, ciao. BRSF, we create chemistry.